Non mangi il dolce! Anzi, li metto nel posto. Non mangi il dolce! Vuoi un mandarino? Chi c'è, Rebi? Rebi, chiudi! Chiudi, chiudi, mio nonno! Chi è? Uuuuuh! Chi è? Chi è? No! Papo Natale! Papo Natale! Spacoli Natale! Stai Mannes! Chiudi? Toi! Ho, 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 ho! Ma... Oh, no! Ma che si è proprio la stalla, dica! Ma... 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 Da che ti porti i regali, dai, ti porti i regali, papà, la stai! Regali! 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 Regali!